Ciao a tutti e benvenuti su questo canale dove parlerò di chakra, creatività, tarocchi e quant'altro posso aiutare ognuno di voi nel proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per la seconda metà di settembre per il segno del sagittario. Sono previsioni valide per chi ha il sagittario nel sole, nell'ascendente, nella luna o venere. Vi ricordo comunque che sono letture di tipo generale, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi, poi prendete quello che si e il resto semplicemente lasciatelo all'universo. Bene, ma cominciamo. Una carta. Wow. In viaggio, scusate ve lo faccio vedere. In viaggio è il maestro. Qui mi parla di un viaggio che può essere di tipo interiore o anche di tipo fisico, quindi di tipo esterno, diciamo, non un viaggio magari in un altro paese, ma con la carta del maestro sento che è un viaggio più di tipo interiore, perché il maestro comunque mi parla di un nuovo inizio, di quello che è, se voi ci fate caso nella carta, c'è questa luna, questa palla, diciamo, non luna, una palla infuocata sopra la testa di questa persona, che mi fa venire in mente quello che è la nostra coscienza, diciamo. Quindi potrebbe tranquillamente essere che è questo viaggio viene intrapreso per aumentare la nostra coscienza. Il maestro mi parla anche di quello che è la vera fiducia in quello che è il percorso della vita, in quello che è tra virgolette il destino, no? Ma andiamo a vedere in generale che cosa hanno le carte per noi per i prossimi 15 giorni. Andiamo a vedere. Sette di coppe, dieci di coppe, adesso andiamo a scoprire anche la prima carta, il matto, che vorrei farvi notare essere la stessa carta, sette di coppe, dieci di coppe, l'imperatrice, con il matto, wow, le prendiamo tutte, quattro di bastoni, otto di spade, la regina di bastoni e il 5 di coppe. Ve l'esposto un po' così magari si vedono meglio. Allora, per quello che riguarda il matto, il matto mi parla di un nuovo inizio, di qualche cosa che parte da zero. È un momento, diciamo, dove la carta vi invita ad avere fiducia in quello che è la vita, in quello che sono le possibilità che la vita vi propone. C'è comunque un volersi o doversi buttare con fiducia nella vita, ok? Spiegatemi il sette di coppe, per favore, grazie. Il sette di coppe normalmente mi parla di quelle che sono le tante possibilità o per qualcuno potrebbe essere parlare di illusioni, ok? Con il 9 di coppe io sento che è come se ci fosse un ventaglio, insomma, da possibilità da dover valutare e ognuna di queste possibilità può portare al 9 di coppe, al 10 di coppe, quindi al compimento. Può portare a quello che è una riuscita, un appagamento, insomma. Spiegatemi l'imperatrice, per favore, grazie. Prendo solo la prima che era uscita. Wow! Imperatrice e imperatore. Queste due carte sono per eccellenza la coppia divina, il divino femminile e il divino maschile. Io credo che ci sia un po' di disequilibrio per quello che riguarda appunto il divino femminile e il divino maschile. Quindi c'è bisogno in un certo senso di trovare un equilibrio. Spiegatemi il 4 di bastoni, per favore, grazie. Per qualcun altro questi imperatrice e imperatore potrebbero essere semplicemente due persone intorno a voi di un certo potere, di una certa influenza, diciamo, che si stanno un po' mettendo in mezzo a quello che sono le vostre possibilità di scelta, come se stessero un po' mettendo il becco. Ma questo lo vedo per molto pochi. Questo 4 di bastoni è spiegato dal cavaliere di pentacoli, dal 5 di bastoni e dal 2 di pentacoli. probabilmente c'è questa persona, il cavaliere di pentacoli, scusate, potrebbe tranquillamente essere una persona timida, riservata, che in realtà non è poi così, come dire, espansiva. Di tutti i cavalieri, quello di denari è il cavaliere più lento. Quindi è una persona che arriva con un passo molto lento, attraverso vari conflitti esterni, appunto potrebbero essere i conflitti creati da queste persone autorevoli, che comunque portano, diciamo, una sorta di saliscendi emotivo. Non c'è proprio tutta questa sicurezza per quello che riguarda la voglia di creare una stabilità. spiegatemi lotto di spade per piacere, grazie. Perché tutta questa situazione, quello che vedo io, e che vi crea comunque un sacco di... vi crea un sacco di pensieri. Talmente tanti pensieri da quasi quasi autosabotarvi. Allora, lotto di spade spiegato dall'appeso e dagli amanti. Probabilmente siete in una fase dove dovete... dovete prendere una scelta, dovete effettuare una scelta e state comunque aspettando. Nel senso, tutti questi pensieri sono perché state valutando i pro, i contro, state guardando un becco perché questa carta. State comunque analizzando ogni singola possibilità. State comunque cercando di capire cos'è la cosa migliore per voi. Vorrei spiegare ancora la regina di bastoni. Re di coppe. Spiegatemi il 5 di coppe. Questa regina di bastoni ha comunque subito una perdita, ok? E potrebbe tranquillamente essere un progetto andato male. Potrebbe tranquillamente essere che qualcuno intorno a questa regina non si sia presa, non si sia preso le proprie responsabilità. Bene, ma andiamo a vedere, nello specifico, cosa vi riserva l'amore per la seconda metà del mese di settembre. C'è comunque un percorso di autoanalisi, io direi, o autoanalisi o comunque anche analisi di quello che sono le situazioni, le situazioni che vi circondano. Quindi siete proprio in una fase di comprensione, ecco. Ok, andiamo a vedere. Per l'amore. 6 di pentacoli, l'imperatore di nuovo, 4 di pentacoli. Sì, è che per qualcuno probabilmente c'è da fare, diciamo un po' così, di equilibrio tra quello che si dà e quello che si riceve, perché ci sono molte persone che hanno questa tendenza a dare, 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 dare e alla fine si scaricano. Non hanno granché cose, wow, 3D. Allora, 6 di pentacoli, l'imperatore, 4 di pentacoli, il giudizio, il 3 di spade, il 7 di bastoni al contrario. Comunque stavo dicendo che con questo 6 di pentacoli bisogna un attimino cercare di mettere in equilibrio quello che è il darsi e quello che è il ricevere anche amore dagli altri. non si può sempre dare, dare, dare e non ricevere, perché ci si scarica. Spiegatemi l'imperatore, per favore, grazie. Ancora una. Innamorato. Cavaliere di coppe, è il 10 di coppa al contrario. Per qualcuno vedo che in questo momento c'è una sorta di, direi, pseudo-stabilità, nel senso che sì, c'è l'innamorato, c'è quello che potrebbe essere una casa, potrebbe essere appunto una stabilità, ma è come se fosse una stabilità di tipo un po' apparente, ok? Per qualcun altro, invece, mi verrebbe da dire che non è una stabilità a livello di coppia, ma è una stabilità a livello di famiglia, di appartenenza. Andiamo a vedere questo quattro di pentacoli. Questo quattro di pentacoli è spiegato dal 10 di spada al contrario, dal 4 di bastoni al contrario. Guardate, qua mi parla di famiglia, qua mi parla di casa, sono tutti e due al contrario, come se ci fosse qualche cosa che si deve chiudere comunque con il 10 di spade al contrario. 10 normalmente sono quello che è la chiusura di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, e il 10 di spade mi parla comunque di una sofferenza. C'è comunque una sofferenza legata a quello che è l'ambito familiare. C'è comunque un qualche cosa che ci fa trattenere, può essere che ci faccia, come dire, rimanere attaccati a un qualche cosa che potrebbe essere, dico io, un'idea anche solo, no? Non necessariamente qualche cosa di concreto e di stabile. Per qualcuno potrebbe essere i beni materiali. Per qualcun altro potrebbe essere che si resta così tanto attaccati a determinati tipi di pensieri o di emozioni che invece bisognerebbe imparare a lasciare andare. Spiegatemi il giudizio. La forza, ancora uno. Lotto di pentacoli. Il giudizio mi parla di quello che è una chiamata. Può essere una chiamata di tipo divino o una chiamata di tipo fisico, diciamo, di qualcuno che magari non sentivate da tempo. E qui è un po', non so se si riesce a vedere la figura, c'è una persona qua che è come se stesse risorgendo. Ed è un po', sta un po' anche ad indicare quello che è il risveglio spirituale. Ed è un po' come se voi doveste fare proprio questo tipo di lavoro. Non c'è quel salto, non vi state, diciamo, tra virgolette applicando a fare quello che è un lavoro di tipo spirituale, mentre probabilmente ne avreste proprio bisogno. Il 3 di spade mi parla di una sofferenza, di una forte sofferenza che c'è all'interno di voi stessi. Ed è una sofferenza probabilmente, visto che viene spiegato con il 10 di bastoni, anche qui il 10 è una carta che definisce la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro, però è come se avesse delle grandi sofferenze per quello che riguarda le responsabilità o i pesi magari che voi avete in questa situazione. Spiegatemi il 7 di bastoni al contrario, per favore, grazie. Il 7 di bastoni al contrario mi parla comunque di un non rimanere focalizzati, centrati su voi stessi. Ed è spiegata dal cavaliere di spade al contrario, che è un'energia comunque irruenta. Questo cavaliere di spade ha un'energia forte, anche alle volte un po' prepotente, è come se ci fossero delle cose che prepotentemente entrano nella vostra testa e non vi lasciano liberi di fare questo tipo di lavoro. Difatti poi ho anche il 5 di spade che mi parla di pensieri, di grattacapi, di mal di testa, insomma. E l'asso di spade, che spiega il 5 di spade, mi parla di un certo tipo di chiarezza mentale che c'è bisogno di fare, insomma, ok? C'è qualche cosa che alla lunga, con tutto questo lavoro, c'è qualche cosa che viene a gallo, insomma. Sì, vedo che c'è comunque una situazione, diciamo, un po', ci sono dei problemi da risolvere a livello familiare, ok? Che sia la vostra famiglia d'origine o la vostra famiglia, o la famiglia che avete creato, c'è qualche cosa legato alla famiglia che sarebbe meglio, insomma, chiarire. Ancora una carta da questi oracoli, vediamo cos'hanno da consigliarvi. Allora, questa carta mi parla di amore, di amore incondizionato, di amor proprio, passione, affetti e attrazione. Poi mi parla di... qui abbiamo questo coltello, mi parla di un cuore rotto e di fatti ho il mio 3 di spade, di molto dolore, di quello che è una separazione, di quello che è una delusione o di attacchi che sono fatti in modo scioccante, attacchi verbali, eh? E qui mi parla del corridore. Ecco, mi dice che il corridore normalmente si riferisce a quella che è una relazione di codipendenza, c'è un certo tipo di paura a quello che è l'intimità e che si ascolta troppo quello che è l'ego. Qui infatti mi parlava di amore incondizionale, quindi è quello che bisogna sviluppare. Bene, sagittario, questo è quello che ho per te per la seconda metà del mese di settembre 2021. Spero che in qualche modo la lettura abbia potuto aiutarti a fare un po' più di chiarezza su quello che è la tua situazione. Se sì, metti un like, iscriviti al canale e condividi. Io ti ringrazio per essere stato qua con me su questo canale, per aver speso il tuo tempo con me e spero di rivederti presto. Un abbraccio. Ciao, ciao.